La nostra mission consiste nell'innovazione, che può essere vista come un'innovazione rivolta al prodotto piuttosto che al processo. Per quanto riguarda l'innovazione di prodotto, noi essendo appassionati di sim racing sappiamo bene quanto sia importante il feeling alla guida e l'idea di poter percepire le giuste sensazioni sfruttando una periferica come un volante e quindi l'obiettivo nostro è quello di poter offrire all'utente un prodotto che possa incrementare il feeling delle periferiche che già di per sé possono essere un'ottima base per la simulazione, al contempo però devono garantire completa accessibilità all'utente dal punto di vista del prezzo. In questo senso la nostra filosofia consiste appunto nel saper coniugare un prezzo accessibile alla qualità del prodotto che poi si traduce in un incremento del feeling alla guida e quindi in una migliore percezione di quelle che sono le sensazioni di guida da parte dell'utente. In questo senso il saper coniugare tecnologie come l'ADT Manufacturing a tecnologie tradizionali come per esempio le macchine CNC che possono eseguire una fresatura piuttosto che una contornatura di una piastra è la chiave per poter ottenere in fin dei conti un prodotto che abbia dei requisiti di elevata qualità ma che possa presentare al contempo un prezzo contenuto ed essere competitivo sul mercato.